Ottavo anno consecutivo per la fiera del libro, dell'editoria e del giornalismo che si svolge a Cerignola alle officine fornari a cura dell'associazione Oltre Babiele. L'edizione di quest'anno si aprirà domani alle ore 9.30 con le attività dedicate alle scuole dell'infanzia, progetti dedicati ai più piccoli per avvicinarli al mondo della lettura, rituale che si ripeterà nelle mattine a seguire ma coinvolgendo anche le scuole secondarie di primo e secondo grado. Le serate invece vedranno un momento di riflessione ed analisi con ospiti di un certo spessore come il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, atteso per domani sera alle ore 19, seguirà Osvaldo Bevilacqua che presenterà il libro Antiche strade d'Italia in cammino tra borghi, sapore e tradizioni. Sabato sera saranno ospiti Francesco Giorgino che presenterà il libro sulla relazione che intercorre tra giornalismo, politica e società. Al termine del dibattito con Giorgino toccherà Marco Travaglio il quale entrerà nei sistemi dell'editoria con la presentazione del libro Post Verità e Post Giornalismo. L'ultima serata, quella di domenica 24, darà spazio da Delmo Monachese, Savino Zaba e le sonorità del cantautore Francesco Di Bella. Nei tre giorni di fiera sarà possibile acquistare dalle librerie o case editrici che hanno aderito alla manifestazione. New Entry sarà all'area dedicata ai libri dell'usato e alla misteriosa iniziativa Libri al Buio. A condire il tutto anche uno spazio social con Insta Fiera in cui attraverso uno scatto fotografico condiviso si potrà ottenere un premio in libri. Anche quest'anno l'ingresso alla fiera è gratuito per tutte le attività e gli incontri che si svolgeranno da domani a domenica.